Quindi le tue previsioni per il futuro? Pessime. Pessime che intendi? Il futuro lo vedo, Rosio, se torniamo in queste radici. Se no lo vedo totalmente distopico con delle persone sempre più staccate dalla natura, dai nuclei familiari e dalle relazioni sociali, in modo che siano sempre più atomizzate. Benvenuti da Roberto Massaie, ben trovati su Giardino Futuro, il podcast del giardinaggio consapevole. Scommetto che non vedevi l'ora di ascoltare la seconda parte dell'intervista a Guido Damini, ideatore e speaker del podcast storico La Caporetto degli Altri. Non mi dilungo oltre con l'introduzione. Lascia solo che ti ricordi di condividere il podcast, mettere una recensione a 5 stelle e, se non lo hai ancora fatto, iscriviti alla newsletter. Vai sul sito www.giardinofuturo.it e scarica la guida gratuita con i 10 fondamenti del giardinaggio sostenibile, in comodo formato PDF. Adesso partiamo con la seconda parte dell'intervista, ma ti avverto, andremo a toccare temi un po' delicati e per certi tratti un po' fortini, più o meno realistici. Se sei una persona un po' troppo emotiva, forse è meglio se non ascolti. Ecco, alla fine, se vedi un po' le costanti della storia, come le sintetizzeresti? Beh, possiamo dire, prima costante, l'uomo non è un santo. Ok. Anche il tuo miglior amico, anche quello non è un santo, perché tu non lo sei, questa è la prima costante. L'uomo, conosciamo l'uomo, che strano animale è. Ok, bene, questa è la prima. Non è un santo nel senso che non è sempre razionale, cioè può anche essere fuori di testa del bene. Certo. Può fare cose grandiose contro i suoi stessi interessi, è questo il bello dell'uomo. Basta una buona narrazione e puoi fare mangiare le leone delle persone. Cioè, veramente, l'unico è avere una buona narrazione. Poi, ovvio, se uno muore di fame, beh, è un po' difficile. Comunque, questa è la prima cosa. Quando tocchi le emozioni... Totale. Perdi la ragione. Esatto. Qui il marketing ci sguazza un po'. Ma sì, ma basta essere innamorati almeno una volta nella vita e sai che sei completamente un coglione, cioè non hai più nessun attacco con la realtà e i tuoi amici ti vedono nell'occhio del ciclone, e tu non te ne rendi conto. Ci sono interi innamoramenti. Innamoramenti di massa. Si chiama nazionalsocialismo. Hai innamorato tutta la Germania per parecchi anni. Ecco. Perché non mi si dica che è Hitler cattivo. No. Non poteva fare tutto da solo. Esatto. La gente si è fatta affascinare. È come quando uno si innamora. Non è che si innamora a caso il compo di fulmine. È perché uno già vuole. Sotto sotto tu sei pronto a scoprire l'amore e quindi ti lasci sedurre. Anche questo è importante. Quindi prima variabile è questa. L'uomo. Seconda variabile. Esistono sempre, esisteranno sempre gli imperi. Gli imperi ci saranno sempre. E grazie a Dio. Perché gli imperi sono quei cani da guardia che mantengono la pace. Hanno fatto fuori tutti i concorrenti e quindi mantengono la pace. Quindi più un'epoca storica è pacifica e più un impero è molto potente. Noi abbiamo avuto un'epoca storica molto pacifica dal 45 fino al 2000, fino ad oggi, perché avevamo avuto un impero molto potente. Terza cosa. L'impero è molto potente se ha il dominio dei mari. E quindi si può mantenere il controllo di tutti gli oceani e darci la globalizzazione, che è una parola del cavolo che vuol dire dominio dei mari. Quindi la talassocrazia americana ha portato alla globalizzazione. Tant'è vero che, non so se ti ricordi qualche giorno fa cosa sta succedendo in Somalia, che stanno i pirati somali che stanno attaccando alle navi petroliere o comunque le navi che ti portano tutti i prodotti compreso anche queste cose qua molto bio. Ecco, in quel momento lì basta che un pirata del cavolo fermi una nave è che tutto il sistema mondiale va in crisi perché è un'arteria, è un'arteria proprio del mondo. Quindi un'altra regola generale della storia è che se vuoi pace, prosperità e commercio deve avere la mazza, la mazza, la mazza. Una mazza gigante che tiene tutti a bada, soprattutto in ambito navale. Queste sono le macro tesi proprio generali. E poi non ci può essere un impero senza una narrazione. Cioè l'impero non può andare avanti col cinismo, deve crederci in quello che fa. Tutti gli imperi hanno sempre creduto in quello che facevano. L'impero comunista voleva esportare la rivoluzione comunista nel mondo. Aveva molti ammiratori, pure qua in Italia, l'URSS. L'impero americano esportare la democrazia, essere un modello di democrazia. L'impero romano un modello di civiltà. L'impero britannico, tirare fuori dallo Stato, dall'età della pietra, i popoli che andava a colonizzare. Oh, ha fatto di tutto e di più l'impero britannico, però è anche vero che in India bruciavano le vedove. Qualcosa di buono hanno fatto anche i britannici. Strano da dirsi, però è così. Quindi gli imperi hanno bisogno di una narrazione e la gente deve crederci. L'impero inizia ad entrare in crisi quando non crede più nella narrazione e la gente che lo vede non crede più nella sua narrazione. Ora, in Italia, secondo me, la gente inizia a essere abbastanza, ma anche nell'Occidente, in generale, scettica, sulla narrazione americana, anche dopo i merdoni che hanno pestato in Afghanistan lì, altro che il caporetto degli altri, sarebbe una stagione a parte per tutti i merdoni pestati dagli Stati Uniti. Quindi anche questo, diciamo, che è un aspetto importante. E poi forse l'ultima regola macro-generale della storia è che devono intrattenere. Gli imperi sono i più bravi nell'intrattenere. E infatti l'intrattenimento mondiale è in mano a chi ha il potente. Ora i social funzionano bene, eh? Sì, sì, assolutamente. Ti lobotomizzano. Ma come il foro boario dei Romani, il Colosseo, insomma. Pane, ci c'è. Se ci pensi, gli imperi sono ottimi nella finanza, nelle armi e nell'intrattenimento. Eh sì. Non l'industria, eh? Quali fanno lavorare noi? Noi stiamo benone. Sì, sì. Ci fanno lavorare, fanno lavorare tutti i sudditi. Però finanza, intrattenimento ed esercito, quello è il top. Tutti gli imperi hanno avuto questo. Gli assiri erano molto bravi nell'esercito e nella finanza, ma nell'intrattenimento zero. Infatti sono caduti subito. I Romani, invece, sono durati assai di più. Machiavelli ci aveva visto lungo, allora. Ah, Machiavelli è un genio. Machiavelli è un genio totale e infatti è un italico. Vedi che ci ha visto bene. Lui potremmo dire che è importante perché dice quelle ovvietà, però le mette proprio nero su bianco. Cioè dice davanti al mondo che la morale, quando si parla di potere, non esiste. E lei non è una roba da poco. Quindi giustifica mezzi, e via. Non è una roba da poco quando si parla di una società cristiana che in teoria voleva il principe anche un uomo di fede, un uomo con una morale tutto un pezzo. Lui dice no. Questo non c'è. Ed è un grande insegnamento. Ci metteresti anche un po' di patriarcato. Cioè io se vedo la storia, le donne dove sono? Ma tuttora. Eppure sono. Allora vedi che hai studiato male la preistoria. Le donne sono state le regine della preistoria. Ok, anche gli etruschi avevano una grande... Ok, ha scoperto l'allevamento. Chi ha scoperto l'agricoltura? Le donne. Le donne. Mentre per il patriarcato è anche qua. È interessante vedere le sue origini perché sono delle origini che risalgono proprio all'età dei sumeri. Forse i sumeri sono state una delle ultime civiltà dove la donna era veramente emancipata. Però c'erano anche gli schiavi per debito e diventare schiavo per debito era facilissimo. Ed è anche la prostituzione era nata lì. Comprare, vendere oggetti, persone era una promiscuità assurda. Quindi la donna sì che era emancipata ma era anche un'economia di mercato che è molto simile alla nostra fra qualche anno. Cioè si comprava e si vedeva di tutto. Qual è stata la reazione? La reazione dei sumeri bene è stata quella di dire no, no, no tu mia figlia non la puoi prendere se io ho dei debiti. Non è che puoi prenderti mia figlia. E quindi il patriarcato è stata una forte reazione a un'economia di mercato che era completamente esploda dove si poteva comprare e vendere di tutto. In breve ti sto per dire che secondo me il patriarcato tornerà come reazione a un'economia che sta comprando e vendendo di tutto. Adesso già si comprano e vendono uteri tra un po' si potranno comprare e vendere le figlie altrui tra un po' fra qualche anno e vedrai che la reazione sarà proprio femminile cioè le donne torneranno a una visione più patriarcale per farsi tutelare. Addirittura. Secondo me sarà così come è già stato nella storia. Quindi le tue previsioni per il futuro? Pessime. Pessime che intendi? Far West? Cioè della serie Anarchia Totale? Allora previsioni per il futuro dipende a quanto lungo il periodo perché il lunghissimo periodo in teoria c'è la parologia cioè Gesù scende. Vabbè Ho una bambina di 6 anni penso alla prossima generazione perché ora parlare di una generazione avanti già te che insomma non hai neanche 30 anni se mi guardo indietro in 30 anni quanto è cambiato il mondo pensarne altri 30 a questa velocità boh No infatti è impossibile è impossibile la vera domanda è l'impero americano rimarrà stabile o verrà insidiato da per ora l'unico competitore quello cinese? Entro il 2049 prende la Taiwan o con le buone o con le cattive vediamo è che poi vive secondo me sul filo del rasoio su tanti fronti a livello economico siamo in una bolla e può esplodere da un momento in altro perché le economie sono fondate sul debito e questo è inutile negarselo a livello tecnologico tutto bello ma se domani per qualsiasi motivo si spengesse tutto non ci fosse corrente di internet mi ha detto prima per una nave pirata si blocca te lo immagini non ci fosse internet o l'elettricità come fai a tornare a un'economia o a una vita come quella di due generazioni fa no è possibile l'economia subito dopo la seconda guerra mondiale cioè l'economia contadina di sussistenza non ci potresti tornare forse tu sì i giardini che hai tu potresti cerco di trasferire un po' di conoscenze anche sull'autoproduzione di cibo un po' come ritornare un po' a contatto con la natura perché il mio grande perché è e te me l'hai un po' anche annoverato è che siamo totalmente disconnessi dalla natura e ci circonda dal mondo in cui viviamo che ci ospita e ci sentiamo proprio ma è l'egocentrismo che ci pone sopra tutti e quindi siamo ci sentiamo dominatori addirittura tra di noi figuriamoci con il resto e questo è un po' sì è verissimo è un po' preoccupante però alla fine la storia ci insegna poi che ci saranno comunque dei sopravvissuti che questi si adatteranno e e continueranno al meglio ma te non vedi delle prospettive molto rose per un futuro più o meno prossimo quello che hai detto è assolutamente condivido tutto questo distacco con la natura sempre più grande e io capisco che c'è un distacco con la natura sempre più grande quando vedo la gente idealizzare la natura cioè vuol dire che non sanno un cazzo di cosa sia la natura cosa siano gli animali cosa sia appunto l'allevamento cosa siano gli animali selvatici c'è proprio un distacco umano della natura perché gran parte della popolazione umana adesso si sta ormai sempre più concentrando nei centri abitati ne è un aspetto anche il fatto che ora in Italia abbiamo un problema opposto che non aveva mai avuto questo paese cioè abbiamo boschi ovunque e animali selvatici sempre più diffusi e nel futuro saranno sempre più diffusi animali selvatici perché non ci sono più predatori naturali quindi diventano quasi degli infestanti per così dire quindi anche questo distacco con la natura non è casuale secondo me è tutto concentrato cioè l'uomo medio nel futuro non sa non conosce come le materie prime arrivano sul suo tavolo non ha più pallida idea di cosa stia parlando eh sì ma neanche il cibo proprio neanche il cibo esatto proprio non sa come funziona un animale non sa come funziona i cicli naturali e più ne è staccato e più è suscettibile più può essere influenzato dalle politiche di potenza insomma da gente che investe miliardi per fargli cambiare diete investe miliardi per togliere un sistema agricolo per esempio qua in Italia o in Europa si sta facendo tutto ora mentre noi stiamo chiacchierando si sta smantellando il settore primario europeo dopo aver smantellato il settore secondario ci sono contadini europei di tutto il mondo che stanno protestando a rotta di collo ma di fatto il votante medio della città che non ha mai visto un allevamento in vita sua l'unico concetto di natura è l'agriturismo o il parchetto che ha lì di bianco giusto ma se questi inquinano via togliamoli questi non hanno proprio il contatto con il reale con la natura io ho fatto il boy scout non è molto però è un'esperienza che secondo me io consiglio a tutti anche a tua figlia cioè nel senso manda gli scout così può capire cosa si tratta quando si dice amare e rispettare la natura ma cos'è la natura innanzitutto perché anche noi facciamo parte della natura siamo all'interno di questo enorme ecosistema gran parte delle specie animali che ci sono adesso sono state o domesticate o addomesticate dall'uomo o se ci sono è grazie all'uomo se no si sarebbero estinte da mo' e comprese le piante comprese le piante noi abbiamo domesticato i semi di fatto abbiamo cambiato geneticamente interi esseri viventi sia vegetali che animali basta vedere un cibo in agua o fatti girare nel mondo cioè siamo un vettore dal colonialismo un po' e abbiamo fatto di tutto di tutto quindi tornare alle radici le radici proprie e le radici proprio della natura quindi io il futuro lo vedo roseo se torniamo queste radici se no lo vedo totalmente distopico con delle persone sempre più staccate dalla natura dai nuclei familiari e dalle relazioni sociali in modo che siano sempre più atomizzate cioè il senso di comunità deve perdersi perché è il grande nemico una persona all'interno di una comunità che sa bene dov'è ben incastrata nel suo territorio è poco ricattabile pensa quanto sia cambiato neanche un secolo ma forse anche meno il sistema anche proprio la famiglia stessa i miei insomma hanno un'origine agricole anche a contatto con la civiltà contadina mia mamma mi parla di famiglie che erano in 20 in 40 cioè ti immagini 40 persone a tavola tre massaie cioè come fosse tutti i giorni un matrimonio poi chiaramente non è che facevano banchetto mangiavano quello che potevano però anche il fatto di darsi una mano tra di sé erano autonomi non facevano rifiuti il loro nucleo di vita era quello oggi invece è proprio l'esatto opposto cioè le persone vivono in un monolocale sole massimo in due se c'è un figliolo è già un miracolo e poi compri tutto alla grande distribuzione senza capire che quei grandi supermercati vengono riforniti giornalmente e se si inceppa anche quell'ingranaggio io la sera prima del lockdown mi sono ritrovato a una coppia ho visto cioè il delirio tutti i scaffali voti neanche finisse il mondo ho detto che succede qui cioè è una cosa mi sono messo il mare nei capelli ho detto no non è possibile pure non è che dice avevano detto che non avrebbero più portato le derrate o rifornimenti no nonostante quello c'era il panico ecco cioè noi pensiamo di vivere in un mondo sicuro ma alla fine siamo sul filo di lana questo sì è bello ma è come la bolla di sapone ripeto quei pirati quei pirati somali sono molto più intelligenti di quanto pensiamo loro hanno capito veramente questo enorme teatro come sta in piedi sta in piedi grazie ai traffici commerciali americani quei colli di bottiglia che ci sono in giro per il mondo fra cui anche lì in Somalia basta che ne blocchi uno si impenna tutto diventa tutto invivibile basta proprio pochissimo eh questo i grandi imperi lo sanno e quindi difendono investono nella difesa come dicevi tu nelle armi investono tanto perché senza quelle ma ciao tu alla coppa non ci fai se non ci sono le armi americane noi dobbiamo ringraziare Dio che ci sia un impero gigante che ha speso un'infinità di soldi in armamenti molto di più di tutti gli altri per stare in pace per tenere un ordine di fatto questo è però è proprio un controsenso se ci pensi perché se ora io parlo proprio da autopista ma se nella storia ci fossimo sentiti e in questo le religioni sono proprio state un fallimento perché se ci fossimo sentiti non dico come tutti i fratelli ma insomma non ci fosse stato tutto questo guerreggiare queste battaglie continue cioè pensa quante vite sprecate quante risorse sono andate proprio in guerre cioè io ho visto a rileggere un libro di storia parla solo di guerre guerre senza pensare poi anche tutti questi soldati che come si alimentavano come si sostenevano a forza di saccheggi soprusi altrimenti non saprei però ecco pensa in secoli e secoli quante energie sono state sprecate in conflitti in competizioni proprio è nella nostra natura questo fare ripeto quando abbiamo dei problemi con i nostri vicini andiamo ad avvocati quando abbiamo dei problemi con comunità rivali andiamo ad avvocati quando l'avvocato non basta più ci prendiamo ammazzate è una roba naturale quando noi diciamo no alla guerra è un modo elegante per dire ragazzi fate di me ciò che volete tu invece non pensi così tu hai una serratura in casa tua perché vuoi difendere la tua proprietà perché se prendiamo alla lettera il fatto di disarmarsi gli unici disarmati sono gli schiavi in ogni epoca gli schiavi chi non è disposto a difendere con le armi con la forza la propria identità è uno schiavo il fatto questo è è brutto da dire ma è così quando le comunità di umani si aggregano e formano delle comunità forti e poi la tentazione è ovvio che c'è quando dici cavoli possiamo estendere la nostra capacità anche un pochino fuori ed è così e fra comunità rivali ci si scontra adesso non ci prendiamo più a cannonate ma abbiamo degli scontri demografici parecchi per esempio in Francia c'è uno scontro demografico fra due comunità il futuro fra cent'anni probabilmente la Francia sarà una repubblica islamica fra cent'anni l'Italia quasi sicuramente dati istata la mano sarà un paese con la metà della popolazione metà quindi questo significa che i pochi che ci sono per mandare avanti l'economia dovranno consumare il doppio il triplo devono consumare come tutti quei bambini che mancano l'appello ogni anno devo consumare di più questa cosa si può fare con i risparmi dei genitori degli anni 50 60 del boom ma questi una volta che finiranno la roba bella è che ci rompono le palle sui bamboccioni sulle cicale ma ragazzi questo sistema sta in piedi grazie alle cicale se non ci fossero le cicale questo sistema non starebbe in piedi perché abbiamo delocalizzato le formiche qua siamo solo cicale cicale suonanti eh sì non c'è più formiche ma non le vogliamo le ultime formiche che sono rimaste quelle del settore primario vogliamo farle fuori adesso basta noi vogliamo solo le cicale una repubblica delle cicale ci può stare per carità io non sono pro e contro nulla però a me piace il mio sogno ecco come tu dici che sei un po' idealista anch'io sono un po' idealista io sogno un mondo identico a questo ma senza senza la retorica sarebbe bellissimo perché apprezzo la sincerità oppure noi siamo un impero abbiamo fatto fuori migliaia di persone ma grazie a questo abbiamo mantenuto una libero mercato e grazie a questo tu puoi convertivare il tuo orto bio e ti sei preso i semi da chissà dove eccetera eccetera la papaya da non so dove eccetera eccetera oppure gli occhiali le tecnologie tutto quello che abbiamo intorno è che è nato sotto il sangue di migliaia di guerre che hanno fatto sì che si innovasse la tecnologia parlare le cose così come diceva San Paolo sì sì no no se tutti facessero così la mia è un'utopia perché l'uomo non è fatto così l'uomo è fatto per dormire sano la notte lui vuole dormire bene anche gli uomini più malvagi hanno bisogno di una narrazione ma noi stessi noi abbiamo bisogno di una narrazione per dire io comunque il mio piccolo l'ho fatto voglio dormire non voglio essere definito lo stronzo e infatti ecco perché nel medioevo tutti erano cattolici romani perché nessuno voleva essere definito eretico adesso ci sono degli interi partiti non dirò se di destra o di sinistra che stanno in piedi proprio nel dire noi siamo dalla parte del giusto gli altri sono i populisti i coglioni quindi noi siamo dalla parte del giusto gli altri eretici ok in ogni epoca c'è l'eretico di turno che è colui che non ha il potere una cosa interessante è vedere l'evoluzione della sinistra italiana che ha capito molto bene quando è caduto il muro che doveva cambiare doveva cambiare il suo contenuto non doveva più tutelare il proletario ma doveva tutelare l'alto borghese è infatti diventata una sinistra molto più simile a quella americana democratica e adesso con la Schlein di fatto questa evoluzione che è durata quasi 40 anni è venuta a compimento molto interessante anche questo aspetto e la destra che era quella della gente con la tuba col monocolo che inquinava e faceva i grandi industriali adesso invece è cambiata e la Meloni è il partito degli operai di fatto anche questo aspetto però entrambi giocano di retorica perché l'uomo sta in piedi solo con la retorica ha proprio questo bisogno di narrarsi non ha il coraggio di togliersi tutti i veli di farsi vedere nudo davanti al buon Dio e dire guarda sono il peggio dei peccatori il peggio degli ipocriti perdonami forse perché siamo così bravi a immaginare le cose che non distinguiamo neanche il reale dalla finzione e lì è una bella domanda Roberto perché io me lo pongo sempre ma loro ci credono veramente alle stronzate che dicono non distinguono più il reale dalla finzione o lo distinguono benissimo e solo degli ipocriti vostro perché o sei un coglione o sei un genio del male però quindi a questo punto penso più la prima uno se la racconta e se è raccontata bene ci vedono anche gli altri funziona e quindi va bene così è un po' come il complottismo cioè è impensabile che ci siano sette otto teste che abbiano una visione così a lungo cioè sarebbe demoniaco da quanto è è geniale penso più che ci sia da una parte un egocentrismo dilagante da quell'altro poi chi chiaramente ha il potere non lo cede nel senso cerca anche con i denti di mantenerlo e poi il potere è un po' come la ricchezza guardi sempre al livello successivo cioè non basta mai è un po' come una droga cioè a quel punto sei talmente al se fatto che ne vuoi sempre di più sempre di più e guardi sempre quello che ne ha più di te o che ti potrebbe scalzare dalla tua posizione ecco forse l'ultima regola generale della natura dell'essere umano e dobbiamo ammetterlo perché lo siamo tutti l'uomo è conformista nessuno vuole fare l'eretico se rischia la vita l'uomo è conformista adesso va molto di moda l'antifascismo ma sappiamo tutti cosa faceva Dario Fo nel nel 44 era un fascista come gran parte della gente qua nella penisola come nell'età dei romani erano tutti per l'impero tutti per i comuni l'essere umano ha bisogno di vivere perché è un animale sociale ha bisogno cioè il terrore credo di tutti noi è il rifiuto essere rifiutati nella relazione escludi dalla comunità questo è un discorso che ci portiamo dietro fin dalla preistoria perché alla fine nel momento si creavano dei gruppi quelli ma anche gli stessi animali d'altronde siamo anche noi degli animali anche se molti non lo vogliono ammettere e un po' lo spirito di sopravvivenza ti porta poi anche a a vedere le cose che ti convengono e per far parte di un gruppo anche la riprova sociale stessa è una leva emotiva molto forte perché storicamente chi era emarginato aveva meno probabilità di sopravvivenza pensiamo anche all'epoca dei raccoglitori dei cacciatori ma anche negli stessi contadini cioè l'idea di fare una famiglia grande c'è un detto mia mamma dice sempre i figli non portano carestia perché erano braccia per lavorare oggi invece è cambiata è un dramma è anche quello che è cambiato c'è stato un bel cambiamento a livello sociale comunque una cosa è sicura su questo siamo d'accordo ne vedremo delle belle ah sì 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 non si sa quando ma qualcosa prima o poi cambia sì sì ma anche perché questo sistema come hai detto tu che dicevi non può andare sempre più su sempre più su sovrapprodurre sovrapprodurre sempre a migliorare sempre ma più che altro ma dove migliori cosa che facciamo in un cano demografico bestiale meglio di così cioè nel senso chi migliorerà non ci sono più figli c'è una desertificazione demografica mostruosa quindi ecco forse l'unica roba che posso dire del futuro è che tutto questo sistema non può durare a lungo perché poi collasserà non tanto per l'inquinamento ma proprio perché non ci sono più nati troppi vecchi e chi è che li mantiene più? Te che insegni a un liceo come la pensano un po' i giovani avvertono un po' un futuro incerto qualcosa insomma un'idea allora io quando ero quando ero giovane non avrei mai pensato a cose del genere no ma infatti cambiamento climatico problemi ambientali sociali economici hai detto bene quando eri giovane tu era il ben godi la maggior parte del paese era giovane e un giovane sano non si fa segmentali pensa al futuro oppure vuole creare grandi cose ma quando la gioventù diventa una minoranza allora come una spugna acquisisce i pensieri della maggioranza che è una maggioranza di vecchi e i vecchi sono terrorizzati dal futuro e infatti hanno tutte queste crociate millenariste dove oddio finirà tutto aiuto 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 e quindi anche i giovani indirettamente seguono come dire hanno questo hanno questa deriva però grazie a Dio i sociali hanno abbastanza fottuto il cervello per cui non pensano proprio al futuro in quello sono abbastanza allegri quindi e lo vedo come cosa positiva almeno una cosa positiva almeno hanno l'ansia già a quell'età perché Dio mia andiamo a quella più più lontana dai più lontana questo hai un consiglio da dare? un consiglio da dare ma in base a cosa? sul futuro le prospettive sì nel senso sul futuro bisogna fare figli bisogna darsi da fare a letto insomma bisogna darsi da fare assolutamente fare figli questo è l'unico l'unico consiglio che posso dare fare figli e farle il più possibile eh ma c'è da mantenerli a questi tenori di vita non è uno scherzo no infatti è impossibile però boh tu intanto falli poi Dio Dio ve ne provvede però intanto ne hai fatto uno puoi dire veramente di aver fatto la tua rivoluzione in quel momento sei tu il creatore proprio di qualcosa è vero è vero in effetti sì questo è forse meglio di ogni traguardo della vita può essere anche questa una costante della storia insomma che forse è anche la più democratica che o ricchi o poveri o oppressi oppressori il fatto di poter mettere al mondo un proprio erede comunque qualche un proseguo di se stessi è anche un po' il senso della vita se guardi anche tutti gli esseri viventi la riproduzione è una parte saliente oltre la oltre la nascita e la morte poi il fatto di lasciare un qualcosa di sé dà senso anche all'esistenza assolutamente è quello che vogliono togliere ai giovani perché li fanno diventare precari e senza figli senza famiglie quindi praticamente non sono nemmeno più i proletari di un tempo che almeno non erano fieri sono il proletario lavoro nella fabbrica e questi sono i miei figli ne ho 27 adesso invece dici sono uno stronzo sono un precario non ho un cazzo e soprattutto non sono fiero della mia condizione sogno di diventare io il boss e schiavizzare tutti gli altri purtroppo questa è un po' la mentalità dominante ecco perché io dico no dobbiamo tornare a essere fieri proletari cioè fare tanti figli l'Italia ha trionfato nell'impero romano a parte tutte le robe l'economia la guerra le battaglie no gli italici non so come scopavano come dei mandrilli avevano un fottio di figli ma proprio inimmaginabili la penisola italica era strapopolosa e infatti ha vinto tutte le guerre la Cina so di per certo che non ha un futuro roseo perché la politica del figlio unico l'ha completamente devastata fra 50 anni la Cina avrà un tasso di invecchiamento quasi come l'Italia si sono sparati letteralmente alle palle quindi anche lì può avere inciso il fatto che si sia allungata la vita media con anche dei ritrovati della scienza della medicina c'è anche un po' io da questo punto di vista un po' ci batto nel senso a volte c'è anche troppo accanimento ecco su alla fine cioè è inutile che si allunghi la vita quando sono vecchio e mi andrebbe allungata quando sono giovane ti torna cioè nel senso a me che me ne frega di campare da 80 a 90 con il pannolone allettato cioè dammi 10 anni più tra i 20 e 30 di forza di benessere cioè allora avrebbe senso ma cioè il fatto che poi la popolazione sia vecchia ma infatti anche lì non lo so è tutto è tutto un grande dubbio nessuno sa il futuro una cosa certa so mangiamo peggio cioè la roba che dobbiamo mangiare è peggiore quindi io non so se invecchierò bene come è invecchiato bene mio padre non lo so questo o come sei invecchiato tu rispetto ai tuoi figli perché tu hai mangiato comunque cose abbastanza sane un tempo adesso pare che più si andrà avanti diciamo che mi difendo bene io non compro verdura e sono quasi vegetariano quindi la coltivo tutta da me in modo biologico da tutte olio vino insomma dici poco Roberto dici poco quello che tu dici come se fosse una roba normalissima guarda che diventerà sempre più una roba da da Lamborghini cioè mangiare stile eh sì di più di più perché la Lamborghini poi non te la mangi appunto appunto quindi non sono nemmeno così fiducioso su quegli 80 che diventano 90 anni non sono più nemmeno fiducioso nemmeno su quello cioè che la vita nel lungo periodo si alzerà secondo me il tenore di vita per quanto riguarda cibi e le cose i tumori eccetera sempre più alti anche presso i giovani tenderà ad abbassarsi perché è pieno di chimicate cioè lo sai meglio di me infatti quello che vorrei fare anche con il mio progetto divulgazione può sensibilizzare anche su questi temi ma anche far capire che un ritorno alla natura significa anche rimettere le mani alla terra sapere come si coltiva una patata un pomodoro ma anche per soddisfazione personale ma più che altro per un bisogno nel senso se arrivasse quel di che potrebbe arrivare cioè è ciclica la storia non è che come si è detto siamo proprio in un bijou siamo all'interno di una bolla di sapone bella quanto vuoi ma è pur sempre una bolla di sapone assolutamente nel caso cioè anche molti giardini si possono trasformare in orti come stava fatto anche nella seconda guerra mondiale Churchill disse trasformate giardini e coltivate solo patate mi darai ragione non so se è una bufala però però se non sai neanche come fare lì ti difendi male nel senso non è che certe cose le impari dal giorno ad un altro assolutamente no è un know-how che si costruisce con il tempo e quello del giardinaggio è assolutamente è proprio un ritorno alla natura ma proprio alle origini dell'uomo perché alla fine è quello che ci ha fatto conquistare il pianeta noi stiamo qua a scherzare sono proprio le basi e poi a parte questo anche se non dovesse esserci nessun cataclisma tu mangi sano cioè è una cosa non da sottovalutare quello che coltivi lo vedi è molto preferibile a una verdura che non sai come è stata trattata con quanti insetticidi ma certo certo è inutile che tu sia vegano vegetariano se poi compri la verdura al supermercato esatto esatto a parte l'etica poi non c'è altro da aggiungere c'è molto meglio narrazione tutta narrazione per dormire bene a casa però di fatto il tuo corpo alla fine non vive di narrazione se quelle sostanze sono lavorate sono sintetiche eccetera con il tempo lo vedi c'è tutti questi sviluppi di tumori vari tutto quello che mangiamo per non parlare poi dei cibri lavorati elaborati cioè processati surgelati cioè lì ciao ciao vuoi mettere un'insalata raccolta lavata e mangiata nell'arco di un'ora e cioè non c'è paragone con quelle compine sacchetti no no infatti è così c'è paragone il problema è che se tu continui a mangiare quelle robe lì per anni e anni e anni il corpo ne risente ovviamente mentre voi comunque siete ancora frutto di una società non del tutto cioè questa rivoluzione agricola 2.0 dei supermercati è relativamente recente sì anni 90 2000 cioè nei 2000 almeno delle mie zone supermercati sono arrivati negli anni 90 2000 ora stanno fioccando come funghi una cosa indescrivibile ma lì strabello statistiche alla mano vedere l'alimentazione dell'italiano quella che è partito fin dalla culla alla tomba mangiando quelle cose lì e mentre gli altri vedere appunto come si invecchia quali malattie ci sono nuove tutte malattie genetiche nuove oppure tutti i problemi intestinali che fioccano adesso le resistenze a determinati alimenti eccetera eccetera è tutto un altro ambito d'altronde la tecnologia ha i pro i contro non si può avere proprio tutto d'altronde chi produce pesticidi produce anche le medicine quindi è circolare si chiude è circolare no l'economia è circolare ecco dalla nascita alla tomba circolare veramente esatto esatto e comunque io ho un orto qua cioè ho un orto completamente dai dimmi dai dimmi ecco perché chiedo come non fai nulla nulla c'ho una piatta di cachi che fa tantissimi cachi ma proprio un'infinità un'infinità per staccarli tutti che ci vogliono dei giorni un lavoro schiavile veramente lo faccio perché ovviamente mia nonna mi obbliga a raccoglierli tutti fa bene però a parte i cachi non ho nient'altro quindi nel caso sono aperto ad avere il tuo ausilio se volessi mai ampliare questo orto e farlo diventare rigoglioso così evito di inutili di cachi e basta già qualcosa insomma sono molto energetici no no è vero volentieri volentieri se hai necessità ti do una mano volentieri sì ti farò le fotografie ti faccio vedere com'è un orto si mantiene con poco e basta anche poco spazio per avere delle soddisfazioni ti dirò di più è importante anche a quel punto la gestione dei rifiuti che considera io tutti i rifiuti che faccio anche di scarti di cucina e quant'altro non butto via niente ma faccio reciclare tutto dai lombrichi che è una magia cioè trasformano le cose putride in terriccio in humus che è spettacolare proprio tu rientri nel ciclo della natura poi alla fine ce lo dimentichiamo ma noi veniamo alimentati dal sole cioè noi alla fine ci muoviamo grazie a energia solare viene processata dalle piante diventa cibo alla fine noi siamo fatti di terra acqua e sole esatto cioè il fango nella genesi anche lì di narrativa ce n'è tante ecco sono arrivato a una conclusione che tra mitologia storia e fantasy non è che ci sia tante differenze cioè a volte leggi il signore dei nanelli o qualche testo sacro oppure qualche testo storico non so quale sia più divertente eh sì sì sono tanti modi per indagare l'animo umano e intrattenere c'è anche quello perché l'intrattenimento assolutamente assolutamente infatti la forma la ritorica è proprio siamo come biscotti zuppati nella ritorica a noi proprio sì 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 ma poi noi italiani particolarmente ci garba proprio la ritorica siamo dei campioni in questo si è avuto tanti letterati sono tutti venuti a sciacquarsi la lingua Narno quindi che si deve fare esatto 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 bene Guido niente è stato un piacere il piacere è tutto mio magari ci risentiremo in un'altra occasione se vorrai se ha bisogno di consigli per l'orto la mia mail ce l'hai assolutamente ti invito a Cremona così lo potrai vedere di tua vai facciamo la collaborazione così bene ti saluto mamma mia quanti temi abbiamo toccato insieme a Guido la cosa che mi ha impressionato è il suo realismo anche se ha una bella voce matura in confronto a me potrebbe essere mio figlio credo che non arrivi ai 30 anni di sicuro aver studiato a fondo la storia e ha permesso di avere un quadro molto chiaro della realtà in cui viviamo e dei possibili risvolti che potrebbero verificarsi in un futuro anche prossimo mi ha fatto piacere trovare nelle sue parole un ramo a cui aggrappare la nostra speranza mi riferisco all'importanza di ritrovare una vera connessione con la natura e coltivare sane relazioni interpersonali solo così potremo fronteggiare qualsiasi evenienza ed educare in tal senso anche nostri figli cose semplici come il contatto con la terra la passione per il giardino la coltivazione di una parte del proprio cibo la condivisione di momenti di gioia e abbondanza sono gli ingredienti per una vita sana e felice mi rendo conto che certi temi siano un po' al limite dello sconveniente ma in fondo la mia missione è diffondere consapevolezza e stimolare la tua riflessione se hai bisogno di intrattenimento lo sai non sei nel posto giusto e anche Guido ci ha fatto capire bene quanto il troppo svago possa annebbiare la capacità di giudizio e limitare la nostra libertà di agire fammi sapere cosa ne pensi ti basta metterti alla tastiera o digitare sullo schermo del telefono per scrivermi all'indirizzo robertomasai chiocciolagiardinofuturo.it se poi hai bisogno del mio aiuto per il tuo orto per il tuo giardino puoi metterti in lista di attesa per una consulenza dal sito www.giardinofuturo.it nella sezione come possa aiutarti o contattandomi tramite la mail ti ricordo che il futuro dipende anche da te e anche solo per questo potrebbe essere bellissimo ci sentiamo alla prossima ciao ciao Grazie a tutti.